Il Libro dei Libri La parola di Dio, il cibo dell'anima La fonte della vita, scritta da uomini Ispirata da Dio Opera dello Spirito Lo Spirito di Dio E il fatto di Dio con noi Per mezzo di Gesù Cristo Un messaggio di speranza Un messaggio di vita eterna Egli dona la salvezza Libera la nostra anima Apre il nostro cuore E l'è in onda col suo spirito Il Libro dei Libri La parola di Dio Il cibo dell'anima La fonte della vita Scritta da uomini Ispirata da Dio Opera dello Spirito Lo Spirito di Dio La parola di Dio è vera Vivente ed efficace Più affilata di una spada Venetrante fino all'anima Venetrante fino all'anima Benetrante fino all'anima educare nella giustizia e poi cambia, convince e rende noi completi in Lui. E il patto di Dio con noi, per mezzo di Gesù Cristo, un messaggio di speranza, un messaggio di vita eterna, Egli dona la salvezza e libera la nostra anima. Apre il nostro cuore e l'inonda col suo spirito. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola rimarrà. Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola rimarrà. Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola rimarrà. Il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola rimarrà. Rimarrà. La mia parola rimarrà La mia parola rimarrà